Ciao a tutti, continuiamo a parlare di equazioni goniometriche e vediamo le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Un'equazione omogenea di secondo grado possiamo scriverla in questo modo, a sen quadro x più b sen x cos x più c cos quadro x uguale 0. Possiamo considerare due situazioni. Se a è uguale a 0, noi possiamo scrivere l'equazione in questa forma. Se invece c fosse uguale a 0, si annulla il termine di cos quadro e quindi otteniamo a sen quadro x più b sen x cos x uguale a 0. In queste situazioni noi possiamo eseguire un raccoglimento totale. Nel primo caso si raccoglie cos x, nel secondo caso si raccoglie sen x. In questo caso si ottengono equazioni elementari e lineari. Se invece a è diverso da 0 e c è diverso da 0 abbiamo l'equazione scritta così in forma completa e in questa condizione assumiamo cos quadro x diverso da 0. Infatti se il coseno fosse 0, qual è l'angolo per il quale il coseno vale 0? π mezzi più kπ. Ma a π mezzi più kπ il seno è diverso da 0 perché assume valori 1 e meno 1. Perciò che cosa succederebbe? Che il coseno è 0 e quindi questi due termini si annullano e avremmo a uguale a 0 oppure meno a uguale a 0 che è contrario all'ipotesi. Noi abbiamo scritto a diverso da 0. Perciò dal momento che il coseno di x non si annulla noi possiamo dividere tutti i termini per coseno al quadrato e così otteniamo un'equazione di secondo grado in tangente di x. Se in quadro su cos quadro fa tangente al quadrato, se in x cos x su cos quadro ci dà tangente di x e qui cos quadro su cos quadro ci dà 1 e quindi risolveremo questa equazione di secondo grado. Però possiamo anche avere equazioni riconducibili a omogenee di secondo grado. In effetti se anziché avere uguale a 0 avessimo uguale a d, un certo coefficiente diverso da 0, noi possiamo sempre fare questa considerazione. Possiamo vedere d come se fosse moltiplicato per 1. Ma noi sappiamo che 1, relazione fondamentale della goniometria è uguale a seno al quadrato più coseno al quadrato. Quindi è come se qui d fosse moltiplicato per sen quadro x più cos quadro x. Cioè otteniamo questa equazione. Nuovamente possiamo dividere per cos quadro. Però a questo punto bisogna fare alcuni esempi. In questo caso c è uguale a 0. Perciò noi qui possiamo raccogliere sen x e ottenere questa equazione che ovviamente ci porta a un'equazione elementare e ci porta a un'equazione lineare in seno e coseno. La prima non comporta alcun attacco di panico perché questo ci dà k pi greco e questa è un'equazione lineare molto semplice perché se noi imponiamo che il coseno non si annulli possiamo dividere tutto per cos x. Imporre che il coseno non si annulli vuol dire x diverso da pi greco mezzi più k pi greco. E così facendo otteniamo tangente di x più 1 uguale a 0. Cioè tangente di x uguale meno 1. E questo si verifica quando x uguale a meno pi greco quarti più k pi greco. Vi faccio però notare una cosa molto importante. Questa è un'equazione che ha appunto un coefficiente uguale a 0. In questo caso è c, il coefficiente di coseno al quadrato. Ma noi potremmo comunque eseguire la divisione per cos quadro. otteniamo, qui cos quadro lo scrivo come cos x per cos x per mettere in evidenza quello che sto per fare, ovvero semplificare questo, e otteniamo tangente al quadrato di x più tangente di x uguale a 0. E raccogliendo tangente di x, considerando la legge di annullamento del prodotto, abbiamo tangente di x uguale a 0 che come soluzione ci dà la stessa che abbiamo identificato per sen x uguale a 0, cioè x uguale 0 più k pi greco. E la seconda è proprio tangente di x uguale a meno 1 che abbiamo risolto pochi istanti fa. Perciò naturalmente otteniamo le stesse soluzioni che avevamo ottenuto in precedenza. Altra equazione incompleta, nel senso che qui manca il termine sen quadro, siamo nel caso a uguale a 0. Qui possiamo raccogliere il coseno e abbiamo radice di 3 sen x meno cos x, tutto uguale a 0. Cos x uguale a 0 ci dà come risultato pi greco mezzi più k pi greco, meno 1, mentre questa è un'equazione lineare, radice di 3 sen x meno cos x uguale a 0. Nuovamente questa è un'equazione lineare che possiamo risolvere dividendo tutto per cos x in maniera tale che si ottenga, come prima, un'equazione in tangente, cioè radice di 3 tangente di x meno 1 uguale a 0. E questo ci porta ad avere tangente di x uguale 1 su radice di 3 che razionalizzando ci dà radice di 3 fratto 3. Questa era la prima soluzione, la seconda è x uguale pi greco sesti più k pi greco. Vorrei farvi notare una cosa. In questo caso, raccogliendo cos x, noi abbiamo ottenuto queste soluzioni. Se noi avessimo eseguito la divisione per cos quadro, avremmo dovuto escludere questo valore. Perciò bisogna fare molta attenzione quando si decide di dividere per cos quadro. Bisogna prima verificare che pi greco mezzi più k pi greco sia soluzione, oppure no, dell'equazione di partenza, perché se lo è non possiamo certo escluderla dividendo per cos quadro. Ecco perché normalmente viene consigliato, quando l'equazione è incompleta, di utilizzare il raccoglimento. A questo punto risolviamo un'equazione completa, dividendo tutto per il cos quadrato. Dividere tutto per cos quadrato ci porta qui ad avere tangente al quadrato di x, qui tangente di x e qui cos quadro su cos quadro fa 1, quindi abbiamo questa equazione. Se vi trovate meglio utilizzando la variabile ausiliaria potreste chiamare t la tangente di x, in maniera tale da scrivere t al quadrato meno t meno 2. E' comunque un'equazione di secondo grado, in questo caso anche abbastanza immediata, perché questa ci dà questa scomposizione. E' un trinomio caratteristico, quindi abbiamo due numeri che moltiplicati tra loro danno meno 2, che sono meno 2 e 1, e la cui somma è meno 1, e sono proprio meno 2 e 1. Perciò questo ci dà t uguale meno 1, t uguale 2, che vuol dire tangente di x uguale a meno 1, l'abbiamo già visto, è meno pi greco quarti più k pi greco. Tangente di x uguale 2 ci dà nient'altro che l'arco tangente di 2 più k pi greco. Naturalmente, se non ricordate la scomposizione dei polinomi, qui trattate questa equazione come una classica equazione di secondo grado usando delta e formula risolutiva, quindi t1, 2 uguale eccetera. E ora, di fronte a questa equazione, cosa facciamo? Qui compare anche il coefficiente che ho chiamato d. Abbiamo detto che questo è come se fosse 2 per 1, dove 1 è sen quadro x più cos quadro x. Perciò in questo tipo di equazioni, quando avete la forma tipica dell'omogenea di secondo grado, ma poi avete un coefficiente a secondo membro diverso da 0, fate sempre in questo modo, moltiplicate il 2 per sen quadro più cos quadro. E intanto questo e questo se ne vanno. Posso portare tutto a secondo membro e ottengo 3 cos quadro x meno 3 sen x cos x uguale 0 e raccogliendo 3 cos x abbiamo cos x meno sen x uguale 0. La prima è 3 cos x uguale a 0, quindi cos x uguale a 0 che ci dà pi greco mezzi più k pi greco. La seconda è un'equazione lineare innocua, cos x meno sen x uguale 0. Qui possiamo dividere per cos x e ottenere tangente o usare i metodi che vogliamo, ma questa diventa cos x uguale sen x. Quando è che il seno è uguale al coseno? Nel primo e nel terzo quadrante, quando hanno lo stesso segno, è per l'angolo di pi greco quarti. Perciò abbiamo x uguale pi greco quarti più k pi greco. D'altra parte, dividendo per cos x avremmo tangente di x uguale a 1 che ci dà proprio questa soluzione che va unita a questa. Vediamo un altro caso. In questa situazione noi vediamo che manca il termine cos quadro, però abbiamo questo termine 2. Quindi è un'equazione incompleta ma che presenta questo termine che non è moltiplicato per nessuna funzione goniometrica, ma come prima, se lo consideriamo moltiplicato per 1, questo vuol dire che il 2 viene moltiplicato per cos quadro più sen quadro, perciò abbiamo meno 2 sen quadro x meno 2 cos quadro x. 3 meno 2 fa 1, perciò sen quadro x meno sen x cos x e ora è comparso il termine cos quadro. Quindi abbiamo un'equazione omogenea che risolviamo esattamente come avevamo fatto in precedenza. Questa è la stessa equazione. Così come per le equazioni non goniometriche possiamo avere anche per le equazioni goniometriche dei sistemi. Perciò ad esempio ci potremmo trovare di fronte a questo sistema. Ma l'idea è che possiamo utilizzare i metodi visti per i sistemi di equazioni. Io potrei chiamare intanto cos x potrei chiamarlo t e cos y potrei chiamarlo z. Così io qui avrei 2t più 5z uguale 6, 4t al quadrato più 3z al quadrato uguale 4. Dalla prima potrei scrivere che t uguale a 6 meno 5z fratto 2 e questo lo vado a sostituire nella seconda. Si tratta di fare un po' di calcoli e per questo motivo vado un po' velocemente dal momento che si tratta di argomenti precedenti alla goniometria. Per cui qui abbiamo 4 diviso 4, questo denominatore, poi abbiamo il quadrato di 6 meno 5z che ci dà 36 più 25z alla seconda meno 60z più 3z al quadrato uguale 4, questo fa 1. L'equazione diventa 25z al quadrato più 3z al quadrato fa 28z al quadrato meno 60z più 32 uguale 0. Possiamo dividere per 4 e otteniamo 7z alla seconda meno 15z più 8 uguale 0 e qui ricaviamo z1 2. 15 meno 1 fa 14 diviso 14 fa 1, 15 più 1 fa 16 diviso 14 fa 8 settimi che, attenzione, è maggiore di 1. Qui stiamo ricavando z. Z era il coseno di y. Quindi il coseno di y uguale a 8 settimi non possiamo accettarlo perché è maggiore di 1. Invece possiamo accettare coseno di y uguale 1. Per ricavare invece l'altra incognita che era t, sappiamo che t è 6 meno 5z fratto 2, quindi t è uguale a 6 meno 5 per z, l'unico valore accettabile, diviso 2, 6 meno 5 fa 1, diviso 2 è un mezzo e questo era il coseno di x. Perciò abbiamo cosy uguale 1 e cosx uguale 1 mezzo. Y è uguale a 0 più 2k pi greco. Cosx è uguale a 1 mezzo quando x è uguale a più o meno pi greco terzi più 2k pi greco. Questa è la soluzione di questo sistema dove ovviamente dovremmo chiamare qui k1 e k2, k1 e k2 numeri interi e abbiamo appunto questa soluzione. Ragazzi spero che questo video vi sia stato utile. Lasciare un like non vi costa nulla. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!